Da più di 20 anni, CAF CGL scrive la storia dell'assistenza ai lavoratori e ai pensionati grazie all'impegno quotidiano dei suoi operatori e delegati. Alcune persone sono cambiate, ma la passione e la dedizione sono rimasti immutati, anzi sono cresciuti nel tempo. Il rapporto instaurato con gli iscritti CGL ci rende una realtà di valore, capace di dare risposte efficienti ed offrire una pluralità di servizi. Siamo orientati sempre di più verso una tutela individuale in grado di soddisfare i bisogni specifici di tutti. Benvenuta al CAF CGL, come posso esserle utile? Devo compilare il 730, mi serve la documentazione completa ma non so a chi rivolgermi. Non si preoccupi, ho tutto quello che le serve. Che famiglia numerosa, ha già pensato a compilare il RED per suo padre? Magari, non so nemmeno da dove iniziare. Sta parlando con la persona giusta, avrà il suo modello alla svelta. E con lei, faccio la stessa cosa per sua madre? Ehm, in verità mi occorrerebbe una mano per la pratica di successione. La avrà in men che non si dica. Fatto. E il certificato ISE? Le serve anche quello, se non mi sbaglio. Tenga. Grazie mille, arrivederci. Arrivederci. Benvenuta al CAF CGL, come posso esserle utile? Benvenuta al CAF CGL. Buon altro video. Grazie.